La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata, ma anche all'evasione fiscale e all'immigrazione clandestina, sono i principali settori che hanno caratterizzato negli ultimi mesi l'attività della Guardia di Finanza a livello provinciale, come conferma al nostro telegiornale il comandante Pietro Maggio. Le grandi emergenze al territorio agrigentivo sono senz'altro quelle della lotta alla criminalità organizzata, che ci vede assolutamente in prima linea. Ogni giorno gli aspetti economico-fiscali del territorio, che sicuramente sono quelli che più si addicono alla nostra attività operativa, e anche il fenomeno ovviamente dell'immigrazione, che in particolare nelle aree sud del nostro territorio, in particolare su Lampedusa, naturalmente ci ha visto assolutamente presenti per tutto il periodo estivo, e sicuramente è uno degli elementi di criticità più presenti nel territorio. Operazioni, quelle eseguite dalla Guardia di Finanza, che per ciò che concerne la lotta alla criminalità organizzata in provincia, culminano spesso con il sequestro di beni e ingenti patrimoni riconducibili alla criminalità. Nell'ambito invece delle operazioni di natura economico-fiscale, sono state rilevate diverse truffe ai danni dello Stato. La nostra presenza sul territorio abbraccia una serie di attività operative, e quindi siamo stati presenti sia nell'attività di controllo economico del territorio, da ultimo una serie di risultati in materia dell'antidroga, in particolare su agrigento, il particolare servizio anche in materia di sequestri, in materia di criminalità organizzata. Uno dei settori più tipici è quello della truffa ai danni dello Stato. Le nostre attività sono effettivamente molteplici.